Autotrasporti Sandro Carrai a Portoferraio opera nel settore dei trasporti e distribuzione merci, affiliato TSS Gruppo per la distribuzione regionale e DHL per quella nazionale e internazionale. Un'altra puntata della nostra mini-inchiesta sulle condizioni delle strade albane non poteva non riguardare quella della parata. Strada provinciale numero 33, 9 chilometri e 114 metri che vanno da Rio Elba a Cavo. Se andando sul monumento ieri ci siamo indignati e con noi i nostri lettori e telespettatori, oggi il sentimento che si prova è quello dello sconforto per il totale abbandono di questo tratto di strada che pur scorre in mezzo al verde senza pericolo di frane come invece avviene nel tratto fra Lacona e Marina di Campo. Basta fare poche centinaia di metri partendo da Rio Nell'Elba in direzione Cavo per rendersi conto che forse quello che scriviamo è ancora poco per descrivere le condizioni di questo tratto stradale. Ben presto le buche, dapprima rare e comunque sopportabili, si moltiplicano e diventano decisamente profonde. L'asfalto scompare per lasciare il posto al fango e ai detriti. In alcuni tratti il nostro operatore, andando sul posto per realizzare le immagini a corredo del servizio, ha dovuto procedere in prima marcia per non danneggiare la sua automobile. Ogni commento è superfluo. E anche qui, in retroscena della gestione di questa che è una vera e propria emergenza, lasciano molto perplessi. Effettivamente si tratta di una strada abbastanza secondaria, ma è pur sempre una strada provinciale, come ben riportato sulla segnaletica verticale. L'intervento di rifacimento di questa strada d'inizio 2014 sembrava imminente. Si parlava di un progetto di asfaltatura di 8,2 km, compreso il manto di usura, ci aveva raccontato qualche giorno fa il sindaco di Rio Elba, De Santi, che aveva aggiunto che i lavori sarebbero dovuti partire tra maggio e giugno, ma niente è stato fatto. Le ultime notizie dalla provincia parlavano di un intervento limitato a poco meno di 2 km nel tratto verso cavo nel comune di Rio Marina, ma neanche questo è mai partito. Ci fermiamo qui, lasciandovi alle immagini, ma sarà inevitabile nei prossimi giorni chiedere conto a chi di dovere di questa situazione. Grazie a tutti.